Nessuna divisione della maggioranza perché le posizioni sul MES che si trascinano negli anni con governi assolutamente diversi erano molto chiare. Fratelli d'Italia e Lega sono sempre stati contrari allo strumento del MES che è tra l'altro uno strumento che è già attivo in Europa da tanti anni. Noi moderati e Forza Italia abbiamo sempre sostenuto. Per quanto riguarda il passaggio che stiamo facendo adesso in Parlamento, che riguarda l'allargamento del MES come strumento per salvare anche le banche, avevamo detto in sede di Partito Popolare Europeo in Europa, noi moderati e Forza Italia, che doveva essere coinvolto di più il Parlamento. E il Parlamento italiano nell'atto di ratifica avrebbe dovuto lavorare per migliorare questo trattato dando questo indirizzo. L'accelerazione voluta dall'opposizione, a cui non interessa assolutamente il MES o l'Europa o il patto di stabilità positivo che abbiamo come compromesso raggiunto in Europa, ma semplicemente mettere in difficoltà legittimamente la maggioranza, ci ha portato alla situazione in cui siamo. Quindi l'elemento più importante che interessa gli italiani e le famiglie italiane è che in Europa si è modificato il patto di stabilità, per i prossimi quattro anni l'Italia può mettere a disposizione risorse per lo sviluppo e la crescita. Il MES è in vigore e rimane in vigore. Per quanto riguarda, credo anche a livello europeo, l'attuazione del MES sulle banche, dovranno, credo, rivedere questa clausola che noi chiediamo, se questa sarà possibile, riguardo al coinvolgimento dei Parlamenti. Primo fra tutto il Parlamento europeo. Questo ci mette molto in difficoltà però con i partner a livello europeo. Ma io non credo che ci metterà in difficoltà. In ogni caso la funzione di noi moderati, dei centristi all'interno della coalizione, che è importante la nostra posizione, quella mia e di Antonio Tajani, aiuterà ancora di più a rendere autorevole e protagonista l'Italia. Mi sembra che il risultato raggiunto ieri sia un risultato fondamentale. Il compromesso è l'arte nobile della politica. Per quanto riguarda noi moderati, l'irresponsabilità ve l'è voluto accelerare da settimane. L'opposizione l'unica cosa che chiede è il Parlamento si esprima sul MES, il Parlamento si esprima sul MES. E non a caso, non è un passaggio formale quello per cui il Governo si rimette all'aula, e cioè si rimette al Parlamento. Perché i trattati internazionali sono firmati dai governi e vengono ratificati o non ratificati dai Parlamenti. Se l'opposizione veramente crede al MES, avrebbe dato il tempo il Parlamento italiano, anche in sede internazionale, di poter procedere ad alcune modifiche che era quello che noi da sempre chiediamo. L'appello che facciamo noi e che facciamo come noi moderati è molto semplice. È un appello che legittimamente ci sarà una campagna per le elezioni europee. Sarà una elezione importantissima. Ogni partito, anche del centro-destra, della coalizione centro-destra, rappresenterà le proprie. Per quanto riguarda noi, rafforzare la proposta popolare in Europa. Ma in questi sei mesi, la responsabilità che noi abbiamo, e l'abbiamo dimostrato anche ieri, Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, la nostra responsabilità è governare. Perché se perdiamo sei mesi, rischiamo poi di fare dei danni a tutti gli italiani. Per questo, per me, il passaggio di ieri è fondamentale. Grazie.